Tu sei un chiavaro, una storia calcistica nel DNA, tuo fratello fa spettacolo dall'altro lato della Sicilia in Serie D e si dice in gergo che tu potresti essere uno come lui, però diciamo che mi hanno raccontato che sei una scheggia e la soddisfazione di essere scheggia è anche vivere distinto da questo punto di vista? Assolutamente sì, mio fratello ho avuto dall'inizio, da quando ero già con una carriera diversa dalla mia io ho sempre giocato fra serie di eccellenza e va bene così, sono contento di quello che sto facendo l'ho fatto in giro per l'Italia nei 7-8 anni che sono stato fuori, sono tornato da 2 anni e in 2 anni ho vinto due playoff quantomeno regionali ora ci andiamo a giocare questa fase finale come abbiamo giocato finora, sempre per vincere anche col doppio risultato e lo dimostro le ultime 8 partite che abbiamo fatto, le abbiamo vinte tutte 8 ok è vero il campo ci aiuta, ma il campo è questo per noi e questo per gli altri quindi oggi ho visto noi motivati su ogni palla e loro devo dire, devo essere sincero un po' li hai visti come dire magari un po' con lo scoramento dentro? un po' scarichi mentalmente, ho seguito appena hanno preso il gol, ho convinto che su questo campo non la potevamo riprendere non c'è la possibilità secondo me loro sono un'ottima squadra forse se ci mettevano qualcosa in più, un po' di grinta ci mettevano anche più difficoltà perché i 90 minuti, non lo so, ma non abbiamo preso neanche un tiro in porta solo uno, solo uno solo uno, non mi ricordo neanche quando, solo uno va bene, mi fido va bene va bene